Questo venerdì al Teatro Palmaria della Spezia, uno spettacolo dedicato alla Grande Guerra nei cento anni, nel centenario da questo evento bellico, per ricordare questo evento ma soprattutto anche per commemorare in un modo originale, diverso. Sì, innanzitutto lo spettacolo è organizzato dalla nostra associazione ACIM, che è la prima volta che ci metta in uno spettacolo più storico, diciamo che musicale, anche se l'asse partante sarà anche musicale, sarà il brano, la canzone. E chiaramente era doveroso da parte nostra ricordare una grande tragedia e tanti giovani che persero la vita appunto in questa grande tragedia. Il titolo è anche lo stesso, il titolo sono io a non essere tornato, è proprio dedicato a tutti quei giovani che sono partiti e non hanno fatto più ritorno. Ecco, è la prima volta che viene rappresentata quest'opera e verrà poi presentata probabilmente nelle scuole. Sì, l'idea, appunto, primigenia dell'associazione era quella che fosse questa un'edità zero da presentare al pubblico di Spezia, ma anche un'idea didattica da proporre poi alle scuole, in modo particolare alle scuole superiori. Ecco, entriamo un po' nel dettaglio di quello che vedremo, ma anche ascolteremo venerdì sul palco del teatro. Ci saranno video, poesie, ma anche lettere direttamente dal fronte? Sì, sono trattati vari temi, appunto la proiezione di immagini dell'epoca, la lettura di poesie e di lettere dal fronte. E poi la parte importante è la parte musicale, la parte musicale che verrà prodotta da vari gruppi, di estrazione diversa, rock, pop e folk, che eseguiranno brani sia dell'epoca rivisti e riarrangiati, sia brani di autori contemporanei come De Andrè, come Massimo Bubola, come De Gregori, Finardi e anche Ruggeri. E' uno spettacolo, a nostro parere, molto vario, che senz'altro può piacere a un pubblico anche diversificato.